Il PD Ionico si riorganizza dopo le dimissioni di Giampiero Mancarelli, ora alla presidenza dell'AMIU. Il coordinamento provinciale di Terra Ionica del Partito Democratico riparte dai commissari. Conferenza stampa di Nicola Audati e Giovanni Chianese, con Antonella Vincenti, il primo braccio destro di Zingaretti. Sono state illustrate le linee guida di questa fase commissariale. Un percorso politico, hanno detto i commissari, che dovrà traghettare il partito verso le prossime regionali. Cercheremo, hanno detto, di fare il massimo per rendere centrale la presenza dell'APD a Taranto come lo è a livello nazionale. Si parte dal punto di forza dettato dall'amicizia con l'amministrazione comunale. Il commissariamento è stato necessario perché il segretario provinciale si è dimesso, avendo ricevuto un incarico prestigioso di governo della città, ma comunque era necessario ricostruire un clima, ricostruire il gruppo dirigente e anche dare una spinta nazionale su temi delicati per la città e per la provincia, in particolare quello dell'Ilva. Dunque la scelta del segretario nazionale è stata quella di chiedere appunto a me, come coordinatore della segreteria e a Giovanni Chianese, come membro della direzione, di lavorare in questi mesi per dare una spinta e risposte positive, non solo per le elezioni regionali, ma più complessive per l'assetto strategico di questa città. Io non ho visto questi manifesti e la lista non è stata ancora approvata, quindi chi ha fatto i manifesti ha sbagliato, perché bisogna prima fare la lista, rispettare gli organismi dirigenti, le procedure e poi dopo si fanno i manifesti elettorali. In ogni caso noi faremo la lista senza farci condizionare da questo, ma solo ed esclusivamente dal peso delle candidature, dalla forza che potranno esprimere, anche dal contributo che potranno portare alla vittoria elettorale in questa regione, per Emiliano e per il centrosinistra e per il Partito Democratico. Quindi adesso, nelle prossime ore, ci metteremo al lavoro e faremo la migliore lista possibile, tenendo conto della provincia, della città, dell'equilibrio di genere.